Villa Rodella staccheggiata per la seconda volta, disabitata da mesi dopo il trasloco forzato dell'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan, la lussuosa residenza di Centi Ugani è finita nel mirino dei ladri che hanno rubato grondaglie di rame e un'acqua santiera. Ad ottobre, quando Galan e famiglia si trasferirono a Rovolon, dove sta continuando a scontare gli arresti domiciliari per l'inchiesta sullo scandalo tangenti per il Moser, vater, lavandini e termosifoni e perfino camminetti erano stati fatti smontare e portati via nel trasloco. Sullo scempio di Villa Rodella era intervenuta la sopraintendenza e la procura di Rovigo aveva aperto un'indagine. L'accusa quella di aver sottratto danneggiato e disperso beni strutturali della casa di Centi Ugani è sottoposta a sequestro. Del trasloco se ne è occupata mia moglie, Sandra ha sempre dichiarato Galan, ora un nuovo saccheggio nella Villa Cinquecentesca. Qualche giorno fa un rappresentante dell'Agenzia del Demanio nel corso di un controllo si reso conto che tra il 19 febbraio e il 18 aprile era stato commesso un furto. I ladri hanno rubato otto grondai in rame, un acquastantiere in pietra e due punti luce senza valore artistico.